Salve a tutti, sono FafuFafuA4 e oggi parleremo del pro-seratosauro. Allora, viveva in giurassico medio, in Inghilterra era carnivoro, pesava fino a 100 kg, era lungo fino a 3 metri. L'altezza non si sa. Il suo nome significa prima del seratosauro. Allora, se notate bene, ha un cordon sulla mascella, questo qua sarebbe, e praticamente era come il seratosauro, perciò gli hanno dato questo nome. Questo cordon probabilmente serviva per attirare le femmine per accoppiarsi. Di quest'animale però è stato trovato solo un piccolo cranio. Dopo è stato detto che il pro-seratosauro aveva una tritatura di denti, poteva tritare il cibo con i denti molto bene, perché i suoi denti erano molto affilati. No, erano molto affilati. Vabbè, per questo video è tutto. Lasciate un piacere, iscrivetevi al canale. Ciao ciao!